Il sindaco di Vallefoglia, Palmi Rucchielli, scrive all'assessore regionale Filippo Saltamartini per richiedere di valutare l'allestimento di ulteriori punti di vaccinazione della popolazione over 80 anche all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Tutto questo per evitare che gli ultraottantenni di Vallefoglia si debbano spostare di circa 20 chilometri per raggiungere la sede di Pesaro, nonché il centro sociale 900 Monaldi, nel quartiere della Celletta. Ucchielli, in una lettera indirizzata anche al direttore di Azur Marche Nadia Storti, al coordinatore provinciale dell'area vasta Romeo Magnoni e alla direttrice del distretto sanitario di base Elisabetta Esposto, propone tra le soluzioni, oltre alla Casa della Salute di Vallefoglia e il BCC Palace di Gradara, anche il Palavitri di Montecchio, dove l'esperienza del recente screening ha dato esiti molto positivi, sia dal punto di vista del funzionamento, complauso delle comunità, che dal punto di vista logistico, precisa il sindaco, pare assurdo per un territorio con un bacino di circa 50.000 abitanti, scrive Ucchielli, di cui 2.000 ultraottantenni, escluso il comune di Pesaro, proporre di spostarsi di circa 20 chilometri per raggiungere i punti di vaccinazione individuati, alimentando le preoccupazioni dei cittadini grandi e aumentando ulteriormente i disagi già presenti. Abbiamo chiesto, come unione dei comuni Pian del Bruscolo, all'assessore alla sanità della regione, di concentrare su tre punti la vaccinazione per gli ultraottantenni, evitando gli spostamenti tutti su peso, cioè Montecchio, Palavitri o Casa della Salute, il Palace di Gradara, perché così evitiamo di spostare 2.000 persone che hanno oltre 80 anni, da 80 a 100 anni, insomma. Ecco, speriamo che molto cortesemente questa nostra proposta venga accolta.